Museo dell'arte casearia. Il Museo dell'arte casearia Fernando De Gennaro nasce grazie alla collaborazione del caseificio De Gennaro e la fondazione Vicoequense Fast nel 2017. Il museo, unico nel suo genere, custodisce una splendida collezione di attrezzi, utensili e accessori appartenuti dagli inizi del 1800 allo storico e pluripremiato caseificio di Vicoequense. Un vero e proprio viaggio che profuma di passato, dove la storia di una grande famiglia ha lasciato una indelebile testimonianza culturale e gastronomica. Il museo si trova precisamente a Pacognano, una piccola frazione di Vicoequense.